Pronti? Uno, due, tre! In seconda posizione Magico Capar, Orso Orsi, in terza a precedere Onice Fonte, Isaia Epi e Nessiria Nor, tutto sommato accolto ottima partenza. 32 per i primi 400 metri di corsa, con sempre a comandare il numero 5, il favorito di Nini Rod, tallonato da Magico Capar. 600 in 45 e 3 abbondanti, con sempre Nini Rod a menare la danza, Magico Capar, Orso Orsi, Onice Fonte, a seguire troviamo Isaia Epi e via via tutti gli altri sgranati in fila indiana. Un minuto e sette il passaggio agli 800 cavalli che vanno a transitare davanti alle tribune, con sempre Nini Rod in chiara posizione di testa, tallonato da Magico Capar che però non lo perde di vista, con Orso Orsi, in terza a precedere Onice Fonte, il primo chilometro in 1'16 e 2 da parte del leader, con cavalli che vanno sulla penultima piegata, comanda sempre Nini Rod, 15-8 per la frazione precedente, adesso andiamo a vedere un 1'16, ancora andatura abbastanza tranquilla, quella imposta dal battistrada di Nini Rod, con Magico Capar che ne segue le mosse, ora sposta dai birilli Onice Fonte che cerca di andarlo a venire su, ad attaccare la posizione di Nini Rod, o perlomeno a prenderne la scia con Onice Fonte che insiste, con Nini Rod che scappa via, lungo i birilli è sempre Magico Capar, il miglio da parte del leader in 2-1 e 3 con Nini Rod e Onice Fonte che si avvicina sensibilmente al completamento della piegata finale, finale con la scia di Onice Fonte che è stata presa da Isaia Epi, cavalli che sono, addirittura di arrivo con Nini Rod che scappa via, scappa via Nini Rod, controlla la situazione, Nini Rod ancora saldo leader, l'ultimo affondo di Onice Fonte, però deve adeguarsi in seconda moneta nei confronti di Magico Capar, Nini Rod da chiaro e netto favorito, bis il successo della settimana scorsa, 1-90 la quota, Warner Martellini ai comandi, 2-35-4 il tempo totale, 1-15-4 il raguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 29-6, 14-9 la dirittura di arrivo, andiamo a rivedere la slow motion delle battute finali, con Nini Rod che controlla l'affondo portatogli all'esterno da Onice Fonte che deve adeguarsi al secondo posto, terzo arrivato il 4 di Magico Capar a precedere il 6 di Isaia Epi.